Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Curci volume 1, preludietto dalla piccola suite di tre pezzi. Per eseguire al meglio questa musica dobbiamo prestare attenzione a 5 punti fondamentali. Il primo, ricordiamoci di iniziare alla metà superiore, quasi alla punta, e di tirare l'arco in su, in questa maniera. Secondo punto molto importante. Arco staccato, colpo d'arco staccato su tutto il pezzo. Il colpo d'arco staccato, ricordo che è così. Eccetera. Terzo punto molto importante. Le dinamiche. Come noterete, in alcuni punti sotto c'è una scritta F. Vuol dire che dovremmo suonare sempre con il volume forte. In altri punti c'è una piccola P. Vuol dire che dovremmo suonare sempre con il volume piano. Quarto punto molto importante. Il secondo, il terzo e il quarto dito dovremo a volte collocarli in maniera isolata sulla tastiera. Ricordate? Vuol dire che da corda vuota dovremmo mettere subito il secondo. O da corda vuota mettere subito il terzo. Oppure, come in questo esempio, dal primo dito collocare subito il quarto. Quinto punto molto importante. Questa musica inizia a inlevare, non a imbattere. Quindi, quando darò play alla base, io conterò fino a sette. E poi partiremo. Andiamo ragazzi. 3, 4, 5, 6, 7. E poi partiremo. Grazie a tutti. Piano Foro Piano 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 Bene ragazzi, esercitatevi e cercate di essere molto precisi. Alla prossima!